Si avvisano le famiglie degli alunni che a causa di un guasto alla caldaia lunedì i riscaldamenti saranno spenti, si consiglia di vestire i bambini in modo adeguato. Questo è il comunicato via whatsapp che si sono visti recapitare i genitori della scuola di Cuarata nel comune di Arezzo. Dopo una recente ristrutturazione di tutto l'impianto di riscaldamento, questo è già il secondo guasto in pochi giorni. L'ultimo blocco risale a due giorni prima delle vacanze di Natale, per cui al 21 del mese scorso. Dopo sette giorni ancora la caldaia si rompe di nuovo. Il dirigente scolastico non poteva chiudere la scuola? Anche quello è un altro punto strano perché ti mandano un messaggio in cui dicono che i bambini devono essere vestiti in modo adeguato. Un messaggio quindi niente di così scritto, niente di così ufficiale e va a finire che nessuno si assume la responsabilità di certe cose. Finirà che lunedì ci saranno talmente tanti pochi bimbi che la scuola ufficialmente è rimasta aperta, però in realtà non potranno fare assolutamente niente. Già nei mesi passati avevamo chiesto che almeno il lunedì mattina ci fossero delle temperature adeguate a scuola, che così non avviene mai. E ripeto, sono lavori nuovi, sono stati spesi soldi pubblici che almeno siano stati spesi bene.